I volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta saranno impegnati sabato 19 ottobre nella raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose presenti sul territorio nisseno. Raccolta che si terrà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 e alla quale hanno aderito numerosi supermercati dislocati in alcuni punti nevralgici della città in via Benedetto Croce, via Santo Spirito, via Leone XIII, via Redentore, Viale della Regione, via Due Fontane nel quartiere San Luca. L'invito è quello di donare prodotti a lunga conservazione, soprattutto prodotti per bambini come latte in polvere, latte a lunga conservazione, biscotti, pannolini, prodotti per l'igiene, pasta, omoigenizzati, legumi e pelati. Prodotti che andranno a rimbinguare il magazzino dello sportello socio e assistenziale della sede della Croce Rossa in via Berengario Gaetani numero 44 e al quale ogni famiglia in difficoltà può rivolgersi per avere assistenza. Devo fare una piccola premessa, noi aiutiamo 400 famiglie mensilmente a cui diamo un piccolo aiuto e purtroppo siamo rimasti completamente senza viveri, perciò abbiamo chiesto a vari supermercati della città dislocati in tutta l'area metropolitana di darci una mano e una mano chiediamo a tutti voi. So che il periodo è molto difficile, siamo tutti quanti molto ristretti come situazione economica, però sono convinta che anche la persona più umile, anche un litro di latte e un chilo di pasta possa donarlo e noi se tutta la città ci desse un litro di latte saremmo più felici di questo mondo e chi può di più prodotti per bambini, omogenizzati, pastina, vi prego andate numerosi domani perché abbiamo veramente bisogno.